ciao a tutti bg salvatissimi qui su fortnite signori sulla season sul secondo episodio diciamo della season 7 oggi atterriamo a sponde del saccheggio madonna oggi madonna una bella fresca fresca rilaggate una tira l'altra mamma mia oggi vi faccio vedere le funivie se mi ci fanno arrivare vivo tanto io farò sempre tre tentativi a video dipende ovviamente da quanto dura il tentativo se dura atterro e muoio ovviamente mi sembra logico e inutile dirlo che per chi mi segue dal mio canale lo sa ma lo dico per lo ribadisco per chi non lo sa lo rifaccio il tentativo scialamente e niente oppure ci sta c'è che certe volte non lo metto proprio il tentativo ne faccio direttamente uno nuovo niente banda le ciance ciancia le bande prima certa della giornata merda totale bene 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 mi piace la merda al mattino mi piace proprio la merda del mattino ragazzi mi piace proprio un bot mi piace un bot mi piace un bot andiamo a pusha shashashashare è morto ah si è morto a guadio grazie per la roba ragazzi io me lo volevo un culare paro paro perchè me lo so pushato poi alla fine no non è successo niente ma dov'è spari spari senta alla fine oddio gli hanno cambiato il mirino what the fuck is going on Oh my god Raga Ma si sta scherziamo? Ah c'è la cesta Prima l'uso questo Sapete che io odio il vampa ma Se c'è la K più la K Ehi Johnny L'ho visto eh Sto a ritardare 300 muri però Mi ha alzato la pena Ma dove? Era qua Le laggate raga Ma le laggate che da oggi Puttana miseria mi sono cagato Ma guarda chi c'è qua Ma guarda chi c'è là Oh scusate raga C'è sti fail di merda Ti prego zio Ti mi chai un po' Un po' Cioè ti ho rotto il culo Con un colpo però Sapete che io preferisco Che la K fa cagare Ma lo so usare in realtà però Lo so leggermente usare meglio Di qualcuno dei miei amici però Non tanto Diciamo che la mira Io non ce l'ho tanto Con la K in realtà Però oggi La fortuna vuole stare Dalla mia parte E mi fa molto piacere oggi Allora La eagle La metterai anche in fondo Perché tanto Forse non la adopro Non la adoprerò E Hanno cambiato la mirina A quanto pare a questo coso Ragazzi Io non lo sapevo Non mi sono tenuto informato Però A quanto sono informato Cioè molto poco Dovrebbero anche aver cambiato All'arma epica Mirino termico Quella lì Insomma Quell'arma O leggendaria o epica Quella lì col termico Insomma E Come il primo tentativo Comunque ci sta Non c'è un pompa Raga Quello è il problema Beh vabbè Lo scopo Lo scopo No Perché non mi ha saltato Ah è lagga Per forza Madonna Fanta Raga Come è builda questo Peggio di me Madonna Se morivo con questo Che bestemmie Ragazzi Che bestemmie Perché raga Sta succedendo il degenere L'ho fatto fuori E c'è uno Che mi sta scopando Con la Cerazzi Ah no E' con l'aereo Ma va a cagare Mi sono cagato Dai ma come si fa A giocare così Dai come si fa A giocare così Dai Ditemelo voi Poi con quello Poi con quello Pensavo di morirci Ma come ha fatto A trovare 200 De materiale Questo Di metallo Soprattutto Se mi nascondo Qua Sono scarso A sto gioco A costruire Dai zio L'ultima benda Fammi la mette A sto punto Ma raga Non ho avuto neanche Il tempo Necessario Arca Maia E' Hittato Hittato Dei fuori Di merda Ah le bende Ah l'ho finita Le bende C'è sto Un bomber Qua C'ho materiali Raga Metti più in muro Qua fra Morto Con questo Dov'è Senza cure Raga Dove cadere Zio Ti conviene Non mi ha saltato Mi fa piacere Per il lag Grazie So abituato Allo scar Che spara Più colpi Alla volta Ragazzi Eh no Non so abituato Allo scar Perché devi fare Plim 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 E poi Capito Comunque Fai schifo A giocare Se è bob killer Te lo dico Non perché So più forte Di te Ma perché Giochi con l'aereo Fai schifo Secondo tentativo Ragazzi Ok raga Come secondo tentativo Ho voluto cambiare Skin e piccone Quindi Vediamo come che va Il secondo Anche se non so Dove atterrare Raga E Boh Vediamo dai Ora aspettiamo Vediamo Di caricare la pagina La cosa Raga Ma sapete che ve dico Ma andiamo a pinna Con l'ivago Io non c'ho Poi Anzi no Guarda Voglio andare a palmetto Ora che l'ho visto Mi è venuto in mente Palmetto ragazzi Madonna ragazzi Mi porta sfiga A me palmetto Madonna Ho detto Ma vediamo Quando registro Che succede Che succede Se registro Mentre gioco a palmetto Quando non registro Ragazzi Il peggio Madonna Perché mi porta Una sfiga Ma non Nel senso Di armi Proprio nel Nel senso Che non riesco Mai ad atterrare In una zona In cui Io abbia un'arma Cioè Avete capito Il senso No Ok Sono armato In teoria Non ci dovrebbe Atterrare nessuno Se fa lì N Invece Atterra un cazzo Di mongoloide No La chi me la dà È stronzo Cascate la roba Tanto una Questa è sotto Ok C'è la lampa verde Ce n'è un altro Da La pistola Tenemosa Per il momento Piamose Bende E allora È la maledizione Di non registrarci Scusatemi Però Me la so Govata Però Allora Questa dovrebbe Forse Forse Stare sotto Perché Io non ci gioco mai No A A palmetto Quindi Magari Potrei anche sbagliarmi Infatti mi sbaglio Perché non so Dove cazzo È Ma se c'è gente Te so Io ti banco Di cazzo Ma non ho preso Mezza volta Ma che mira di merda Che mira di merda Porca Maiala Oh Faccio delle cose Fantastiche E poi Sta c'è Stare Devo scoprindo Cazzo Sta Allora Dove Andiamo un attimo qua Cazzo Questa non la sapevo Lo giuro Non la sapevo Comunque veramente Che mira del cazzo Prima Non riuscivo mai a prendere Oddio L'ho laggata Vabbè ogni tanto C'è sta però Cioè Dai ragazzi Ma si sta scherziamo Dai Ancora Io direi anche Basta no No Mettimi un muro Prima che mi incassi Ok Ok Questo non ne può proprio sapere Mamma la vaffa Non ci posso credere Quello c'è anche lo scar ragazzi C'è Ditemi se uno Ti deve cazzare Ah mi ricresce un po' la vita Almeno Oh Me non può un po' Te dico lo scar ma Pompa Cazzo Ma con questo ci muoio Al cento per cento Ragazzi Non sto scherzando Con questo ci muoio Se riesce a trovarmi Muoio Se no non riesce a trovarmi Sopravvivo Ovviamente Sarà dentro l'edificio Ragazzi Ma farmo materiali Perché questo me ne farà sprecare un po' Ado Facciamo medikit da sotto Quanto cazzo lo vorrei prendere Non avete idea voi Eccoci Cazzata perché era una trappola Lo sapevo Se facessi battuto la mitraglietta No dai Non voglio fare queste cose su youtube Eccolo la Ok Perfetto Pensavo di failare Sinceramente L'avevo visto un po' fuori In mirino però Vai E' cascata tutta la roba Ma guardate che è laggata Prima dicevi Non posso costruire Poi si Ma che cazzo Stai a dipra Allora Chiariamose subito Perfetto Allora Guarda mi vorrò curare un po' troppo Ragazzi Cioè E' strano Perché col cecco Non sono proprio un gran che Anzi Se poco il termine giusto Faccio schifo Se poco il termine giusto Anzi Che faccio schifo Marca maiala Soprattutto perché Lag da fa paura Allora Non voglio buttare Assolutamente Il tentativo A puttane Quindi Corriamose Chiariamose subito Quindi Speriamo Non sia un po' troppo In culo Ok Sentite Per 10 di scelto Me lo faccio Ma sentite Guardate Che io Per cattiveria Ma il caccio Lo lascerei Anzi no Giusto per col tattico Me lo tengo Sarà il pump Magari del nonno No Toglievo sicuramente Il caccio Allora Faremo con questo Perché le fenditure Non ne vedo una Quindi si va sul sicuro Almeno Sarebbe stato Comodo una fenditura Sinceramente Io parlo per comodità Sicuramente Parlo per comodità Uno ha preso la fenditura Adesso Adesso Che è là No No vabbè Non ci interessa Dai andiamo avanti La safe La carissima Safe È Alla zona Innevata Ecco Poche parole Nella zona Innevata Ok Diremo Arca puttana Però Vai Ok Vai Vai Sbagliato Tasto Scusate Scusate Non luto ragazzi Non luto assolutamente Perché non mi sembra Proprio il caso Non mi sembra Proprio il caso Forse Qua posso Lo da Ok Dai Sto un po' Zitto ragazzi Perché sono Leggermente Più concentrato Del solito Quindi Vediamo Quello che Posso Io cerco Di portarvi Contenuti Bellini Mi alleno A parte Non ho neanche fatto Una partita Di riscaldamento Questa è la prima Partita del giorno Quindi Direi anche Not bad Per come Inizio Ok Arriva la 6 Faccio Sto albero E corro 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 Come un dannato Raga Sinceramente Uno di shield Non me lo farei Per 10 Cazzo di shield Lo lascerei Direttamente Dire Sono diventato Un cinese Direttamente A 50 Non vorrei Sprecare 10 Di shield Per uno shieldino Quindi Siamo Essere in safe Siamo in safe Però vorrei capire Se c'è gente Là sopra Spero di no Però Alla fine Vi dico sempre Delle fenditure Che ve le faccio vedere Ma poi Oh che figo Io non l'ho mai provato Ve lo giuro Non l'ho mai provato Oh cazzo Torca Come si guida Abbiamo No no Usciamo usciamo No no Non voglio far fail Non voglio far nulla Perché non l'ho mai usata Per l'appunto Ma Non voglio far fail Comunque c'è un fight Da fare E siamo nella merda Perché sta per partire A safe Fra un minuto Qualcosa Vado con lo scarpe Si vede sul sicuro Perché è un build Ah per lag Perfetto Madonna dove è andato Quello Madonna quando mi succede Sta cosa Sta cosa Ma guarda Guarda Insomma Guarda Ma builda Perché non mi builda Oggi Guarda non builda Per il lag Guarda Ma da dove Ma da dove Da dove Un'altra da dietro ancora Ma basta Sempre da dietro Che fastidio Fastidio proprio Mi da da dietro Va bene Fastidio Questo se volevo Questo se volevo Me lo scopavo Cazzo Se un dito Un culo Come Amber Sentra Si faceva i cazzi Suoi Puttana miseria Spero ti scopi male Madonna Guarda Scusate Scusate un secondo Sono incazzato Con un talebano Madonna santa Sbam Ti deve rompere Ti deve rompere Sbam Figlio di puttana Ovvia Ora si che mi sento meglio Cazzo Vai raga Secondo tentativo Ma tanto muore anche questo Quindi raga Raga Vediamo col terzo tentativo Come va Goditi la tua morte Strunz Allora Come secondo tentativo Ragazzi Prima è stato bellissimo Ho deciso di atterrare A Pena A passatempo I ragazzi Non mi ha fatto buttare prima Perché il caricamento È stato parecchio Parecchio lento Non so il perché Veramente Non so il perché Non mi azzarderei neanche Ad atterrare Nella cosa Dei porcellini Perché ci saranno andati Già tutti Cioè non ce ne ha Vabbè Pistola Andiamo a fare Da quello con la pistola Che cazzo Devo dire Cioè Tre ore di caricamento Mi toccherà Buttarmi a passatempo No Accidenta Sta wifi di merda E baffaculo Quanta vita c'hai Stronzo Posso capire Che fa cagare Però Che cazzo E vabbè Fra la wifi Che non mi carica L'accesso anticipato Del caricamento veloce Perché mi carica In ritardo Eeeh Ti suona il campanello E bandata Pianpone Il culo Che cazzo Non so Vado apposta Per farmi incazza I miei fan Saranno felici Perché si incazzano Perché si divertono Però Mi incazzo io Poi è la fine Che se mi incazzo io E raga Per giusto a sta partita Ci vorrebbe Non lo so Poi che Guardate Ce ne sta uno lì Non gli posso Fa niente Ma vi rendete conto Non gli posso Fa niente Però questo Gli posso Fa qualcosa Gli posso Fa qualcosa Eccolo Il mirino nuovo Vediamolo Dove sta qua Dovrebbe sta qua Eccolo qua Bello 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 Preso Ma c'è l'aereo Madonna Aereo Che schifo Che fai Bello Headshot 25 25 però Rocca maiala Di vicino Me l'aspettavo E ho capito Però porca Puttana Quanto fa schifo Sto bianco E raga Io ho provato A aggiustarla Ma se fa così La wifi Ci posso fare Almeno Non ha laggato Durante la partita Cioè Niente raga Terzo tentativo Ed ultimo Dai E Dopo tre ore di caricamento Invece ora Mi carica così veloce Che è successo Ti ho rimproverato Mi hai dato red Ora Bravo Wi-Fi Ben Non lo prendo Bene Bene Terzo ed ultimo Tentativo Ragazzi Lo faremo Proprio Alalalalalalala Che ho detto No perché Vi ci porto Sempre a condotti Quindi sponde No scherzo Anche lì Vi porto troppo Pinnacoli pendenti Ragazzi Ebbene sì Terzo ed ultimo Tentativo Bene Bene ragazzi Dai andiamo 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 Col terzo Tentativo 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 Di oggi Del secondo episodio Della season 7 Vediamo cosa Viene fuori Poi io le funi via Mi piacciono un botto Ma non le uso mai Ma non perché non mi piacciono Perché non ho mai L'occasione di pushare O capire dove mi porta Perché ancora Devo capire di preciso Dove le hanno messe Insomma Ste cazzate varie Proprio Che devi conoscere Col tempo Ste cazzate Ma se io vado qua Sono morto No In teoria no E neanche in pratica Sono morto Perfetto Mi fa sentire Già mai Ma perché qua Non c'è terra più nessuno Cioè Vedevo la gente piena Io pensavo Ero convinto Che qui c'andessero tutti Cioè Convinti tutti Ero convinto Che c'andassero tutti Al cento per cento Che c'andessero tutti quanti Vediamo se c'è anche La cesta qua Non c'è la cesta qua Oh prima volta Dico cesta Cesta Non cesta Cesta Non cesta 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 Eee Fa un culo Ok va bene Va bene Ci sta Ci sta Er Poi un po' Me lo caccio Un culo ora Aspetta Volevo dire La posizione Delle mitragliette Non fate caso a me Io farlo da me solo Per ragionare Raga Lasciatevare Io so pazzo Allora Vediamo cosa ci riserva Questa gran Figlia di Eh gli cedini Non li posso più buttare Vaffanculo Eh io butto via caccia eh Un pompo lo voglio via cazzo Se no Vaffanculo Non ti scomodare Dammi un pompo eh Non ti scomodare Perché c'è una Oh porca puttana Ci vuole tanto Mamma mia Ma che cazzo sto facendo Oh porca troia No via Basta Sono rotto Aspetta qui Andiamo a fai Dove cazzo sta la gente Andiamo a fai Qui la gente Allora andiamo a fai Pochissime munizioni Raga Oh Non è rifatto tutto Dov'è? Oh dentro Esplosione Esplosione Su esplosione Insomma Anch'io Gli ho fatto abbastanza male Ok 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 raga Veloce c'è sta altra gente Ma hanno rifatto L'edificio quello di nuovo? Anche questo io non sapevo raga Io non so molte cose Veramente Mi tengo poco aggiornato Sul mondo di Fortnite E ci gioco parecchio Fai schifo Simex Ok Dipende dove va questo dizio ora Diciamo che non mi ha tolto tantissimo Ma dov'è questo che stavo cercando di shut up prima Scusa Dove ti nascono Dizio Mi dico che sei là No Ok Ma dov'è? La lagga troppo Ma raga dov'è? Mi dico che sta a campera giù Spero di no Spero di no Io ci do un'occhiata tante volte Povera di Dio Ma qui già non si può spaccare ma sono un mongoloid Vabbè tanto i materiali mi depano Ok non ci sta però male Pia bene Togliamoci noi prima che dobbiamo farlo noi Ok non ci sta nessuno raga Era pieno fino adesso facevo fight Allora abbiamo scelto di materiali quasi Se calcoliamo insieme al metallo C'è un biancone C'è un mattone Ce ne abbiamo di più Ragazzi sono molto concentrato Non parlo molto per quello Scusatemi Perdonatemi ma L'ho fatto così io Quindi Scusatemi Allora Ma gente dove sta in questa partita? Bello scarrino me lo dai? E chi cazzo ti aveva visto a te? Ma vi sto detto bevendo Beh si Però non ha fatto il tempo perché è stupido Hai rotto il cazzo Su Ma pariamoci tutti dai Tutto il coso No 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 Qua è schifo Ma dai Ma sul serio Sai finché io proiettili si sparerò? Salta Lo faccio di merda Ho messo la tappola lui Non io raga Lo sapevo mi sparava questo figlio di puttana Lo sapevo Mi so parato apposta Sapevo che mi avrebbe sparato lo stronzo Dona che casino raga Eh che cazzo Ma dove sta? Che aeroplano sta? Care aeroplano sta Diciamo che a pinnacoli non è andata così maligna Cioè non è andata così male Che è? Allora Cominciamo ad andare in safe Orca maiale è lontanissima Ma è lontanissima raga Dobbiamo avviarci assolutamente Cure Non ci sono altre cure? Altre bende? No eh E fa piacere Mettila la scala Please Che niente Via Oddio Eeeh Basta? Raga L'ha fatto Raga mi sa che è crashata la partita Molto probabile Sapete? Non mi usciva da cazzo di vagone Lì Ok ora mi piccona Madonna Mi era preso Era nel panico raga Ve lo giuro E bestemmiavo di sicuro Ma di sicuro non l'avreste sentito Perché Io taglio sempre le parti in cui bestemmio Quindi Se non mi vai Non è il video In 0,0000 Un secondo Quindi Oh cazzo Ma l'ha aiutato lui Ho aiutato solo Ho fatto male a sparagli Sapete perché? Perché ora c'è la safe Costruisci Ah no Non ho scillini? Ah Interessante Ma con questo come cazzo faccio? Me lo dici? Me lo dici te Ma cazzo devo fare con questo io? Ho fatto in mongoloide Oh 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 Brutto stronzo Attivare fra tutte le armi Che c'ha poteva L'averci Il lanciarazzi Come di dar culo Non sai chi dov'è? Dai Voglio sapere dove sta sto figlio Di randrocchia Ma gli entra un corpo Ma gli entra un corpo A tre lato Bene Vuoi me? Eccomi Bene Vuoi me? Eccomi Ci sono eh Non ti pare che c'è l'albero Un pregoioni No ho finito le munizioni Che cazzo dici? Come ho fatto? Scusa Sì Ho perso raga Ho perso si cazzo Cioè io ci provo eh Però Ho perso si cazzo Perso si Raga C'era anche il lanciarà E cose là Il Come si dice? Vabbè raga dai Sto video spero vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale No e tranquillamente Ce la dovrei fare Cioè secondo me Poi io sono ritardato Dico cosa Senza 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 Oh Quanto cazzo togli ora Potana miseria Oh porca troia Quanto togli ora Oh E soprattutto Quanto cazzo lagga Madò Meno male ce la dovevo fare tranquillamente Ma purtroppo Più rimane Più lagga Stavo per dire Basta Grazie Non ci voglio schiantare Dai te prego Safe dai Facciamo un accordo Te do 2000 dollari Eh te do C**o Eh sta zi Oh Scusate all'intrusione di mia madre Ma Non mi sembrava il caso di parlare Puttana miseria raga 11 Mi sa che ce l'ho fatta proprio perché avevo l'ultima penda raga Cioè io voglio sapere come te faccio adesso Con 11 di vita e 25 di shield Potevo morire a questo punto Vabbè Puttana le pende Sì Se ne c'è un fight da fa Usiamola Così magari non gliela lascio Magari gli serve No quanto so io questa Oh Madonna Oddio Raga ma che partita su te Sto a sudare raga Lo giuro su chi volete Sto a là sopra l'ho visto raga Ma non gliela posso fare niente C'ho la safe No perché si è bloccata Mi cecchina tutta la vita questo Ma raga cioè So che fa raga Lo giuro non so che fa La safe mi sta costringendo E morirò con sto cecchino Tanto raga E che devo fare Gli la posso fare così Cioè vedete Come bisogna essere messo È rotto il cazzo Va bene Dragonage 16-1 E guardate dove cazzo Si è fermata la safe ragazzi Guardate dove cazzo Si è fermata Nel punto preciso In cui sono morto Quindi potete tranquillamente Sopravvivere ragazzi Niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E ci vediamo Ad un prossimo video di Fortnite Mamma mia ragazzi Partita davvero strana Mamma mia Partita davvero strana